Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia, più 2,74%. Il settore utility, con il suo meno 0,58%, si attesta come peggiore del mercato Posizione all'1,61%. È previsto domani in Unione Europea l'annuncio di M3, del PMI Manifatturiero e del PMI Composito. Sempre domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sul PMI Manifatturiero Attesa una partenza stabile per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7954,75 punti Attesa